Sono veramente felice di questo festival perché stiamo avendo un grandissimo successo, il pubblico sta apprezzando la musica, i giovani affollano il teatro, per cui tutti i nostri scopi sono veramente raggiunti e poi il fatto di poter fare musica e poter portare un artista come Dennis Kozuki in Adarezzo è sicuramente un grandissimo piacere e un grande onore per la città. Nella splendida cornice del Teatro Petrarca l'Arezzo Youth Music Festival non è solo una manifestazione di altissimo livello internazionale ma anche e soprattutto un appuntamento per rimettere la musica classica al centro e renderla fruibile in tutte le sue declinazioni. Grazie all'intuizione del suo giovane ideatore Giovanni Andrea Zanon il festival è riuscito nel tempo a portare ad Arezzo straordinari musicisti under 35. Per me l'Italia è molto speciale, era il primo paese straniero dove ho suonato era un bambino, aveva 10 anni e ogni concerto qui per me è molto speciale io veramente amo l'Italia, amo gli italiani, mangiare italiano è meraviglioso di fare nuovi amici come Giovanni la prima volta in Arezzo spero che torno perché mi è piaciuto moltissimo un pubblico meraviglioso, una sala meravigliosa allora io ho avuto molto piacere, è stato veramente molto felice di aver suonato qui. l'ultimo appuntamento sabato 14 novembre Grazie a tutti!